Un evento nella simbolica location dell'Aurum di Pescara per i 65 anni dell'Istituto Acustico Maico, che ha voluto festeggiare il suo fondatore, Serafino Menzietti, che nel lontano 1957 iniziò come dipendente della Maico, per poi rilevare l'azienda, e con grande intuito imprenditoriale portarla ad essere una delle realtà più importanti del centro Italia. Per l'occasione sono arrivati a Pescara nomi illustri del mondo della medicina, del giornalismo e dello sport, come l'olimpionico Yuri Chechi, il signore degli anelli, che ha ripercorso la sua brillante carriera. I saluti istituzionali sono stati aperti dal sindaco di Pescara, Carlo Masci, a seguire gli interventi del senatore Luciano D'Alfonso, del senatore Nazario Pagano, dell'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì, del consigliere regionale Guerino Testa, il professore Gaetano Paludetti, direttore uoco Torino Laringo e Atra del Policlinico Gemelli, Corrado Canove, e vicepresidente dell'Associazione Europea Audioprotessisti. Tanti i riconoscimenti al signor Maiko. Sul palco dell'Aurum anche Luciano Onder, celebre giornalista e divulgatore scientifico, testimonial della Onlus Nonno Ascoltami, nata proprio nel capoluogo adriatico. Proprio questa associazione è uno dei fiori all'occhiello dell'attività di Mauro Menzietti, che l'ha fondata. In virtù del suo impegno nel mondo della prevenzione, Mauro è anche rappresentante italiano dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, in qualità di componente del World Hearing Forum di Ginevra. In Puglia e in Basilicata, l'azienda è guidata da Antonio Lauriola, membro della famiglia Menzietti, protagonista dello sviluppo del gruppo da oltre due decenni e delegato regionale ANA. Mauro Menzietti, che grande giornata, che grande emozione e pronta la sfida per il futuro. È straordinario ritrovarci qui in questo bellissimo abbraccio con tutti i nostri collaboratori, con tutti quelli che ci sono vicini nel lavoro quotidiano, perché come diciamo sempre, l'impresa non si fa da soli, c'è sempre qualcuno davanti o dietro le quinte che aiuta e che contribuisce al successo. Naturalmente non si è mai arrivati, non è mai un punto di arrivo quello che celebriamo, ma è sempre un nuovo punto di partenza. Guardiamo al futuro cercando di essere sempre più vicini, prima di tutto, ai nostri collaboratori e ai nostri clienti che ci hanno dato fiducia, ci hanno scelti, per cui noi lavoriamo per loro. E poi cercando di essere sempre più forti in modo da garantire al massimo la sostenibilità del nostro progetto e che possa resistere alle pandemie, a tutte le guerre, a tutto quello che potrebbe riservarci il futuro.